ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodietto dedicato ai vostri video ed eccoci qua come ogni tanto capita con qualche video da guardare da commentare da scoprire soprattutto scoprire gli orologi che ci sono dentro cioè quelli che voi ci sbolognate sbolognare è un brutto termine ma a volte è proprio giusto perché ci passate degli orologi che nessuno vorrebbe e che voi sperate che in un giudizio positivo no in un commento positivo no se fanno schifo fanno schifo io lo dico e poi lo dicono anche gli amici sotto qua no nei commenti si sbizzarriscono anche loro quando vedono le ciofeche volare e per forza non se ne può fare a meno cioè un minimo di schiettezza ci vuole no cinismo schiettezza e verità e poi il prosciutto dagli occhi cade come partecipare lo sapete mi raccomando video corto conciso sette minuti roba così in orizzontale fatto bene l'orologio del giorno oggi è questo bellissimo brightling cronomat 40 mm di diametro cassa funzione gmt con quella sua bella sfera rossa che vedete calibro etta 28 93 semplice semplice né più né meno ma noi ci piacciono gli orologi così quelli belli fatti bene per questo qua lo guardi sembra senza vetro sembra gli indici escono fuori dal quadrante scintillanti no e poi c'è detto celetta a me non me ne frega niente l'orologio è bello col suo bracciale a cartucera è così guardiamo il primo video speriamo bene barra spaziatrice pronta e indice la colpisce fuoco ciao davide un saluto a tutti gli amici del canale amici complimenti al canale a te al canale alla tua competenza alla tua dedizione alla tua passione e allora sì io sono gaitano da napoli ti voglio mostrare gli orologi che ho comprato da circa un annetto a questa parte quando ho deciso di passare dagli orologi al quarzo che prendevo mettevo sul polso e per carità avevo due i miei due preferiti che mi accompagnano da sempre ma non ne capito dell'orologica meccanica non mi si ero mai avvicinato ho deciso di farlo cercando qualcosina poi alla fine ho trovato il tuo canale mi sono appassionato dopo ho già preso qualche qualche orologio adesso sto recuperando sto guardando un po tutti i tuoi video passati voglio farvi vedere un pochino ciò che ho comprato non mi considero un collezionista ci sono tantissimi orologi che mi piacciono però non so poi se effettivamente prendendoli li userei o no soprattutto quelli più pregiati quelli più costosi comunque bando alle ciance no anche per paura di rovinarli bando alle ciance ti mostro un po bando alle ciance ti mostro è passato un minuto un minuto di discorsi inutili ecco questo qua è un esempio di come non fare un video capito c'è un'introduzione così lunga di 1.01 un minuto e un secondo non ha senso non ha senso capito cose che magari potevi anche dire mentre vi mostravi l'orologio tra una cosa e l'altra edete un minuto prima e mi hai già fatto passare la poesia di cosa si tratta vai allora prima di tutto ti mostro degli orologi dei quarci molto vecchi questo è dell'89 di cui ricordo poco non ricordo neanche di aver di aver indossato ma sono se non lo siete graffati graffiati ed usurati sono carini e li e li conservo non dico per ricordo perché appunto non ricordo da dove saltano fuori me li ha regalati qualcuno sicuramente ma credo mio padre comunque questo sector questo più o meno ricordo di indossarlo ma ero ero giovane giovanissimo gli orologi miei di sempre diciamo erano questi questo philip watch che ho adorato tra l'altro adesso non si vede bene con la luce di oggi giornata uggiosa non vedo l'ora che finisca la pioggia piccola battuta però guarda fatto bene comunque bracciale solido ben fatto sempre un quarzo però bello ecco il mio preferito il secondo mio preferito questo tissu gmt ma fatto benissimo bracciale solido gmt molto spesso che non si rastrema però guarda che ha una presenza parte sul polso una presenza estetica ma soprattutto di peso perché io adoro e prediligo esclusivamente i bracciali quindi in devono essere pesanti solidi farsi sentire farsi notare allora questo orologio qua guarda io ne ho avuti due di quarzi tisso cronografi il modello è couture e questo qua gli assomiglia deve essere di quella famiglia lì anche se gmt ma è anche cronografo se mi sbaglio non lo so non ho guardato bene è la forma quali 43 mm il quadrante bianco ce l'ho avuto così anch'io era il mio periodo quello bracciale perché questo qua c'è un bracciale da 23 l'ansia da 23 da 23 mm volevo anche io il bracciale in acciaio bello bello presente me lo ricordo bene e questo lo fa e lo ha sempre fatto questo l'ho portato per qualche anno praticamente dopo di che poi sono passato direttamente a trovare in una gioielleria mi sono appassionato ai taggoyer bravo e ho trovato questo cercavo una referenza diversa un altro carriera di cui sinceramente adesso non ricordo anche più però ho trovato questo avevano questo nuovo di parlare ovviamente tutti i nuovi tranne uno che poi ti dirò è stupendo l'ho adorato da subito e adesso che ne ho acquistati altri questo l'uso di meno poi ero anche non ero molto esperto quindi qualche primo graffietto un paio di graffietti vabbè sulla clasp insomma niente di che allora questo qua è proprio il classico carrera come ce lo immaginiamo noi cronografo non con i numeri doppi 0 5 10 15 i pulsantini con la fascetta in alluminio colorata rossa nera molto sportivo molto contemporaneo con quel design che siamo abituati a vedere a conoscere no con il 77 50 dentro mi sembra sì calibro 16 ben diverso da quelli che vanno per la maggiore adesso no che sono quei carriera un pochino più retro dall'aspetto un pochino più vintage questo è proprio la fotografia della contemporaneità del carriera cronografo e non ti ci domica contro proprio bello dato che il top anche sto qua mi sembra che è un 43 se non 44 mm proprio uscito nel pieno della moda del padellosa però a suo perché poi può anche essere indossato così però è un modello che trovo bellissimo particolare ben fatto solido e soprattutto che risalta molto sul polso tutto questo nero e poi questo rosso molto sportivo è un taggo è fatto bene poi sono stato a questo splendido e splendido perché è anche questo è ben solido e ben fatto emilton kaki che ha un bracciale incredibile nonostante abbia un prezzo complessivo questo orologio estremamente basso perché questo è davvero per due soldi è bello bellissimo solido di presenza anche questo si fa sentire poi a questa la clasp classica che ecco qua messa bellissimo bravo e promosso questo l'adoro questo lavoro e l'ho portato per diverse settimane fino a quando avevano detto vabbè ci vuole dell'albero anche ci vuole anche dell'altra ci vietano e ho preso ecco noi ecco noi tra averà fasi lunari anche questo lo adoro ma davvero tantissimo simpatico se mi piace tantissimo infatti credo che prenderò anche il modello quello in bianco addirittura col dai al bianco solo tempo e che all'illuminazione mi ricordo come si chiama insomma volume alla luminescenza su tutto il quale il dial perdonami adesso non mi viene fuori sempre braccialato cioè ovviamente ovviamente poi ho preso contemporaneamente un concessionario emilton questi due questo la mia sinistra di cui mi sfugge il nome esercito vendutissimo e poi ho capito il perché perché davvero con due soldi hanno una qualità e una robustezza incredibili da da orologio di di fascia superiore adoro anche questo portarlo sul polso cerco di sbrigarmi perché vedo che il tempo sta andando bello 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 bellissimo ecco pure questo bracciale solido è davvero ben far former e poi ho preso contemporanea di quello e il jazz master solo tempo è bellissimo adesso cerco di metterlo in suoi nomi non è che riesco qualche foto che ho fatto perché era era aveva una cassa stupenda bellissimo però sul mio polso non me lo vedeva allora sono tornato indietro il giorno dopo alla gelleria l'ho restituito i crono sono i miei preferiti ma beh penso questo che mi piace molto molto di più fatto altro su quest'altro emilton in tramatic poi mi sono fermato con gli emilton altrimenti ne compravo altri ho detto troppi emilton lo stesso meccanismo insomma non mi andava sa quella classica cosa ci penso su che significa non lo voglio però non te lo voglio dire invece davvero ci ho pensato sul giorno dopo sono andato a prendermi perché perché non mi convinceva la maglia milanese ho capito molto glemur se vogliamo non è l'orologio mi piace l'orologio sportivo ora te la maglia milanese ce l'ho anch'io questo qua con la maglia milanese l'ho messo l'ho messo in cassaforte la maglia milanese ci ho messo su un cinturino no intanto lo attiro fuori ce la rimetto cioè il bello di questi orologi che si possono anche utilizzare anche con un nato volendo no quindi non è non può essere un impedimento la maglia milanese c'è un po di problemi con i nomi degli orologi questo qua il nome non ti sei azzardato a dirlo perché non te lo ricordi di quegli altri non te lo ricordavi uno jazz master si ma è la famiglia jazz master performer kaki expedition cioè per te prendi gli orologi così a caso vai riprendi vai pirichi vabbè non tento te cavolo stupendo no infatti ho pensato su mi sono visto video foto qualche recensione a me piaceva il panda il panda reverse comunque col dial nero e però non ce l'avevano soltanto meccanico a carica manuale cioè a carica manuale e col cinturino in pelle nera che è che mi piace tantissimo ma niente io la pelle non riesco a portarla sul polso e quindi alla fine l'ho preso bravo sono convinto e ne sono contentissimo perché stupendo risalta molto non è il solito orologio si fa si fa si fa notare ed è molto particolare poi ho preso l'unico forse il primo non so di tanti non lo so ho preso questo qui non è più in produzione ho contattato la oris direttamente tramite email ho mandato diverse email alla oris devo dire mi hanno sempre risposto e l'ho trovato su crono 24 un privato tedesco è praticamente seminuo purtroppo non l'ho trovato braccialato ho ordinato il bracciale tra parentesi cavolo oris cara oris tre settimane ben tre settimane per avere un bracciale tramite concessionario che poi ho trovato infatti non lo sto usando più perché a me questo orologio piace tantissimo lo adoro un 44 come il 40 euro sembra più leggero che grazie al cinturino in nylon adesso non ricordo il nome questo è più pesante più massiccio mi piace di più il peso del del taguer carrera ma come anche di di degli degli altri comunque se può proviso cioè scusami degli emilton e infatti anche per questo motivo non vedo l'ora che arrivi il bracciale col bracciale bravi ha capito bracciale però guardarlo e portarlo sul polso come dicono tutti mi dà tanta soddisfazione questi sono i miei orologi il video già è diventato troppo lungo taglio subito aspetta mi ero dimenticato di un orologio in realtà di due ma uno che è seco 5 perché ho visto tutti cioè tutti quasi tutti i tuoi video sto recuperando tutti quelli vecchi ma porca miseria tutti col seco 5 vabbè fammi provare costa una miseria azzardo ecco qua sta cambiando il giorno e lo trovo stupendo bracciale della strap code perché quello ordinale scusa il termine faceva schifo ma davvero schifo strap code consigliavi in un in un tuo video l'ho preso davvero bello e ben fatto infatti nulla da dire e sì questo lo utilizzo in qualche occasione in cui non voglio dare nell'occhio se mi si spacca in due l'orologio me ne frego ma devo dire che sono rimasto colpito davvero perché dai alla nero perché è bellissimo in acciaio spazzolato veramente dei bei dettagli sono rimasto colpito e nulla questo è quanto questi sono gli orologi che ho comprato non mi definisco un collezionista un appassionato e sicuramente ho da fare ancora tanta strada collezione banale fammi sapere cosa ne pensi ti ringrazio e in bocca al lupo per il tuo canale grazie mille meno male che è finito perché sto qua era veramente prolisso non è che la razionalità proprio non sta di casa qua para ponzi ponzi pa belli belli orologi si è promosso sia una un estimatore di emilton perché tenesse presa in ass vagonata nulla da dire io sono ho sempre detto che secondo me uno di quei marchi che ha a catalogo la maggior parte di orologi belli appetibili che ti vengono voglia da acquistare emilton e anche a un prezzo diciamo decente anche quegli aumenti decente emilton che ha tutta una serie di orologi che vanno dai cacchi fido l'expedition l'intramatic c'è il pilot ce ne sono tanti diver il frogman sempre sempre azzecca quasi sempre gli orologi lo stile dell'orologio l'aspetto quindi ti capisco che hai fatto ma bambassa di questi emilton poi per il resto l'hai visto anche da solo hai tutti i orologi validi mi sembri un pochino un pochino però troppo in affanno nel senso che uno dietro l'altro li voglio li voglio li voglio li voglio magari non non trovi il giusto lasso di tempo l'intervallo tra uno e l'altro per goderteli un pochino per capire per studiarli meglio per innamorarti veramente di quel dato orologio piuttosto che passare a un altro e dimenticarti subito di quello no un po più di calma ti consiglio su quello si in un annetto e detto è un annetto delle pesi tanti comunque se li rivendi qualcosa ci rifai quindi non è che sono soldi tutti buttati via no valgono l'esperienza del possesso e del godimento dell'orologio e tutto fa bagagliaio lo buttiamo dietro nella feretra ok prossimo video ciao davide complimenti per il tuo canale per questo bellissimo format sono max da bologna ti volevo presentare parte della mia collezione ma intanto guardiamo cosa ci metti sul ci metti una maschera per fare le immersioni quindi significa che sia appassionato di mare o di immersioni amatoriali perché quella lì non mi sembra una maschera professionale non lo so però e poi una bella moto bmw quelli dell'elica r1200 bmw le moto bmw non mi sono mai piaciute in vita mia comunque andiamo avanti così soprattutto oggi ti vorrei presentare i miei diver ho provato a metterli in ordine di profondità quindi parto subito da questo spettacolare seiko turtle srp 93k1 attualmente in produzione che è anche il modello più basico del turtle con la sua iconica cassa comodissima tra l'altro questo è un day date io che non non amo tanto per un discorso di simmetria dei quadranti la data negli orologi ma in questo caso secondo me ci sta ci sta bene ed è un gran bello orologio un cinturino comodissimo ed è veramente un entry level di tutto rispetto e se guarda il discorso del giorno o del giorno è data sugli orologi si lascia un po il tempo che trova anch'io quando recensi recensisco un orologio che è senza data che al bel quadrante pulito simmetrico lo enfatizzo però per contro non è che mi fermo dall'acquisto di un orologio con il datario ad ore 3 o il datare giorno e data non mi interessa se l'orologio mi piace quelle non sono impedimenti oppure quando è ore 6 dico bello e ore 6 tutto sì però non significa ho preso il maco l'orient maco day date voglio dire no mi piace mi piace a 200 metri rimaniamo a 200 metri con il tudor pelagos fxd bravo un orologio fantastico ad anze fisse quindi può montare solamente cinturini nato e ha la particolarità di è di avere la cassa in titanio grado 2 altra particolarità è la lunetta e la ghiera che è una ghiera bidirezionale retrograda per stata studiata per la navigazione sottomarina dei sommozzatori nata dalla collaborazione con la marina nazionale francese tant'è che nel fondello c'è inciso mn marina nazionale e l'anno in questo è un mn 21 anno in cui ha iniziato la sua produzione e ce ne sono veramente pochi retrogada cosa vuol dire vuol dire che i numeri sono alla rovescia diciamo così papale papale no vedete il 50 poi 40 30 20 10 contro la rovescia piuttosto che 10 20 30 e appare il mio secondo me questi questo tipo di chiera di lunetta di inserto con i numeri retrogradi secondo me ha più senso di esistere rispetto a quell'altra l'avevo già detto perché ora in questo caso voi mettete il numerino in corrispondenza della sfera dei minuti ammettiamo il 20 ci porti il 20 sopra te sai che quando la sfera minuti raggiunge il triangolo che è quello più visibile al buio sono passati 20 minuti e non sbagli mentre invece con gli altri tipi di ghiera ci devi mettere il triangolo partire dallo zero e poi dopo devi controllare i 20 minuti guardando il numero sulla ghiera tante volte il numero sulla ghiera si legge male no quindi si va anche un pochino così a tastoni ma io preferisco retrogada rispetto agli anni successivi di mn 21 e ha per me questo quadrante di colore blu navi che è fantastico fantastico essenziale bellissimo bravo adesso scendiamo un pochino arriviamo a 300 metri con il submariner nella sua ultima versione referenza 12 40 60 e un 41 mm questo qua è un orologio sportivo classico è l'orologio più riconosciuto riconoscibile al mondo e anche più copiato purtroppo comodissimo una volta messo al polso non lo senti quasi veramente un orologio fantastico rimaniamo sempre a 300 metri con l'omega c-master 300 m ecco questo orologio mi ha colpito subito dal suo quadrante in ceramica con questo motivo ad ondine un incisa laser la sua classica valvola d'elio conica ad ore 10 che ad alcuni non piace ma me fa letteralmente impazzire bello bello l'ho preso con cinturini in caociù perché tanto è comodo e anche molto più bello rispetto al suo bracciale in acciaio che visivamente parlando di una pesantezza incredibile non rastrema e quant'altro e il suo movimento anche lì l'hanno fatto a vista il movimento è che il calibro 8800 rimaniamo a 300 metri con il submariner il cosiddetto Hulk dagli appassionati la referenza è l'11 66 10 lv ed è il secondo ghiera verde della storia di rolex il primo aveva il quadrante nero questo è l'unico che ha il quadrante verde di un verde cangiante soprattutto sotto la luce del sole adesso in casa non si vede molto ma ha un quadrante veramente ipnotico mentre quello in produzione adesso il ghiera verde in produzione adesso è tornato a farlo con il quadrante nero quindi questo è molto particolare quindi la cassa come si vede è un pochino sgraziata in quello che è il raccordo con il bracciale perché alleanze molto tra virgolette cicciotte mentre il l'ultimo submariner come abbiamo visto prima è molto più aggraziato sono state assottigliate però la particolarità del quadrante per me vince su tutto per me è fantastico e siamo sempre a 300 300 metri adesso andiamo un pochino più giù con l'unico orologio che ancora non ho indossato che questo squale galeazzi orologio in acciaio completamente lucido edizione limitata sono 500 pezzi al mondo nato dalla collaborazione tra squale e galeazzi che questa società spezzina che è specializzata e riconosciuta a livello mondiale per quello che riguarda sulla produzione di materiali per sommozzatori quindi specializzata nella decompressione ed è appunto alla cassa del 1521 anabolizzata quindi più spessa e ha la valvola d'elio ad ore 9 è un orologio veramente molto molto particolare questo è bello simpatico adesso scendiamo di parecchio arriviamo a 1200 metri DOXA 300T con la sua cassa che è fantastica storica iconica e l'ho scelto con appunto con il suo quadrante arancione che è quello più iconico anche perché l'arancione il colore che è più visibile quando si va sotto sott'acqua e l'orologio sarà anche più visibile quando si fa sott'acqua ma io quando ho fatto le video recensioni dei DOXA con il quadrante arancione e con i numeri sulla ghiera arancioni i numeri sulla ghiera non si vedono non sono luminescenti sappiatelo sono veramente pochissimo quasi quasi zero mentre quelli di altri colori se sono all'azzurro no il nero mi sembra il bianco boh quelli sono luminescenti quelli arancioni no più distinguibile rispetto agli altri che invece perdono le loro caratteristiche anche questo ha la valvola d'elio ad ore 9 un orologio fantastico con un bracciale molto robusto a chicchi di riso nella chiusura è presente il pesciolino DOXA e c'è l'allungo per la muta e questo lo sapevamo già molto comodo che io utilizzo più che per la muta per la micro regolazione quando in estate mi si gonfia un pochino il pollo ma si si può fare tengo a precisare che comunque tutti i miei orologi hanno a parte Galeazzi che è l'ultimo che è entrato in collezione ancora non ho utilizzato ma tutti hanno hanno fatto dei bei tuffi in mare assieme a me ecco torniamo in casa squale con il commsubin anche questa un edizione limitata di 500 pezzi i primi 80 destinati ai militari ed è nata dalla collaborazione tra squale e il comando subacqueo incursori della marina militare italiana che ha sede alla spezia precisamente a porto venere questo orologio la particolarità che è un fatto in titanio sempre la cassa classica del 1521 sempre più spessa per il discorso che ha la valgola d'eglio ed è infatti in titanio stavo dicendo titanio grado 5 e io ci ho messo questo 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 cinturino in caucciù arancione che riprende la sfera dei minuti e la scritta com subin è fatto bene chiaramente molto estivo e particolare ma che amo tantissimo bravo adesso andiamo giù di pochi metri perché qua siamo a 1220 metri con 4000 piedi e abbiamo il sea dweller il 16600 che ha la particolarità di avere molto simile al submariner alla data però come si vede non ha la lente ciclope che tanto mi infastidisce ma che purtroppo in certi modelli devo digerire perché non si può fare altrimenti qua non ha la lente ciclope perché appunto con ad arrivare a certe profondità con la pressione che c'è la lente ciclope schizzava via ed è quindi la la cassa del submariner un pochino più spessa ed è un orologio veramente molto molto tecnico tecnico io non lo vorrei adesso arriviamo all'ultimo l'ultimo che ho in collezione che è il sì ancora è un 3900 metri l'ho scelto per la bellezza del suo quadrante blu de gradè è uscito stato presentato nel 2014 chiaramente alla valvola ad elio ad ore 9 è un orologio molto molto massiccio ma che io amo veramente e ha questo sistema ring lock che è composto da un vetro zaffero che è spesso più di 5 mm ha un anello di decompressione altamente resistente ed il fondello in titanio però una volta chiuso al polso con il suo sistema di regolazione fine una volta ben serrato non dico che non si sente il peso ma riesci ad utilizzarlo e ogni tanto lo indosso con molto piacere bravo bene davide questa è la mia collezione di diver spero che ti sia piaciuta se un saluto a te ciao caro grazie ciao 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 tu mi dici la collezione di diver quindi presumo che tu abbia una collezione ancora più ampia che comprende altre decine di orologi perché mi ha fatto vedere solamente i diver e se la qualità la qualità degli altri orologi è paragonabile a quella dei diver direi che è una gran bella collezione perché qua non abbiamo visto nemmeno una mezza non dico ciò fecca ma nemmeno una mezza calzetta proprio tutti i orologi da serie a squale rolex tudor omega belli non ti posso dire niente io sinceramente se ci sono degli orologi che non mi piacciono veramente e su mariner va bene non mi interessa non mi interessa verde poi tutto verde neanche meno ma proprio quello che a borro che proprio non non digerisco sono i sea dweller il deep sea quelli lì a me proprio mi garbano ma proprio niente 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 non ce la faccio poi design sempre quello lì sempre quello del submariner è venuta noia è venuta noia ragazzi ma mi fai il design del submariner però anche più bello spesso ciccione no non mi garbano mi garbano tra tutti quelli lì sicuramente l'omega seamaster 300 è quello che mi piace di più io c'è lo nero col bracciale e il bracciale ti dici che è troppo massiccio va bene vero non rastrema ma deve essere con quegli orologi lì deve essere così il bracciale comunque ci sta bene cioè anch'io lo vorrei indossare con il cinturino in cauciu perché gli da un po' quella lo rende un po' più volitivo comunque si è promosso non c'è niente da dirti amici commentate qua tutti tutti i gonfi e ciofec e top che cosa devo dire prossimo ciao davide sono roberto roberto sento i miei orologi partendo dai quarzi quarzi ecco lorenz regalo dei nonni per la cresima valore solo affettivo utilizzato per circa 20 anni prima di cadere in disuso in concomitanza del mio passaggio ormai irreversibile agli automatici bravo tutto tutto cronografo bulova caravan utilizzato caravebbero tutto poco ma cosa che può euro cron radio controllato in particolare vorrei spendere due parole su questi ultimi che sono stati regali di un ricco signore che possedeva una collezione in orologi di svariate centinaia di migliaia mamma mia e a te te regalato le ciofecche boh il primo meccanico e anche il più vecchio è un cronografo otis ritrovato da papà in un cassetto del nonno orologio del quale purtroppo non se ne sa nulla non si conosce l'origine la data di acquisto e quant'altro certamente però le parti sono tutte originali lo abbiamo fatto revisionare e devo dire che funziona piuttosto bene teniamolo come ricordo passiamo ora gli orologi attuali con i diver che sono tre il sin combat sub ghiera rossa da 39 mm qui ho fatto satinare la maglia centrale lucida del bracciale perché la preferisco così non capisco questo abusare della maglia lucida su orologi di connotazione tecnica sportiva comunque c'è stato un bel risultato certo complimenti ho fatto un bel lavoro lo G questo è il quadrante bianco la versione con tutti i 12 numeri sul quadrante ecco questo idroconquest qua dei primi anni 2000 ultimamente confesso sono andato a cercarlo anche su ebay qua e là li ho anche trovati costosi li mettono a tanto li mettono a me piace questo idroconquest qua con i numeri arabi così a corollario cercavo io cercavo ghiera rossa cerchiamo quello con la ghiera rossa se trovano un po di meno costano tutti tanto invece uno nero l'avevo trovato buon prezzo su un mercatino di facebook me l'ha segnalato il mio amico caramaschi ma nero con la ghiera nera non l'ho preso non l'ho preso perché sarebbe un altro orologio in più da mettere lì lo voglio con la ghiera rossa è a un prezzo decente non sono risposto a spedere mille euro per un orologio usato di questo è l'idroconquest più raro prodotto solo nel 2014 prima di essere ritirato dal mercato e dalla produzione per andare a riproporre quella che era la referenza precedente che poi è diventata la successiva che ancora è in produzione se con il quadrante composto da numeri indici a bastone e bicchierini io l'ho avuta tuttavia preferisco questo in virtù della maggior leggerezza del bracciale con maglia centrale satinata del movimento migliore con una maggiore riserva ricarica e da notare il bracciale rastrema mentre nel precedente e successivo idro il bracciale ha una larghezza costante con la maglia centrale lucida la riserva di carica però appunto la fissa dell'idro compost alla fine ho acquistato anche l'ultima versione ceramica con la ghiera in ceramica quadrante blu maglia centrale lucida dai a suo perché anche con la maglia centrale lucida certo quello vedi quello tutto satinato no come fatto quel glissin bello tutto quello opaco poi passi a quello lucido con la maglia centrale lucida e dici cavolo bello sono diversi sono differenti è bello anche lucido no ora perché il lucido magari mette in evidenza maggiormente i graffi da utilizzo quello sia la sua pecca però è bello che lucido capito no non è che deve essere per forza tutto opaco ci vuole anche un orologio pacco uno lucido cioè questo orologio rispetto al suo predecessore ha uno spessore della cassa più elevato e risulta quindi più pesante al polso tuttavia a me l'idro con queste piace per questa forma della cassa avvolgente che ben si adatta anche a polsi di dimensioni contenuti essa veniamo poi a quello che fa le vici un po dell'everyday watch emilton khaki field titanio da 38 mm quadrante blu e nero il titanio è stato una piacevole scoperta ho imparato ad apprezzarlo in virtù della grande leggerezza e portabilità si è vero che tende a graffiarsi di più bisogna stare attenti ma la sensazione di non presenza al polso secondo me è impagabile quello che ho da criticare alla casa madre invece è la mancanza del trattamento antiriflesso sul vetro che è inaccettabile su orologi da più di mille infine cercavo qualcosa di diverso col cinturino un orologio che fosse più elegante degli altri non ne fanno più così con le dimensioni di cassa contenute ho però fortunatamente trovato questo long in flagship da 36 mm quadrante nero come fondo di magazzino del 2007 non me lo sono lasciato scappare riuscito così a completare una mia idea di collezione che fosse sbilanciata verso i diver ma al tempo stesso anche abbastanza variegata e completa in termini di colorazioni dei quadranti ma anche tipologie di orologi per poter poi consentire vari abbinamenti ho finito grazie grazie a tutti gli amici un salutone un saluto veramente bella collezione con pochi orologi cinque lì è saputo scegliere bene tre diver di glissin c'è poco da dire costa anche poco e offre tanto quindi ben venga glissin poco la ghiera rossa così e l'idroco che prima serie seconda serie anzi è uno di quelli che mi piace di più col quadrante bianco io non lo sceglierei non scegliere col quadrante bianco te l'hai scelto invece appositamente perché uno di quelli meno venduti quando dice più rari fa figo no meno venduti invece ticati cala già no meno venduti sarà un motivo no però bello 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 e poi l'idroco che secondo me quello nuovo lì l'inserto ghiera ceramica che secondo me è la punta diamante della tua collezione poi abbiamo l'emmington khaki che è un classico orologio da tutti i giorni il field watch per antonomasia quello da utilizzare senza remore perché anche impermeabile 100 metri pur non avendo la corona a vite e per ultimo quello una bella sorpresa quel long jean lee flagship da 36 che mi è piaciuto subito tanto veramente fine sobrio elegante semplice da indossare al polso sul posto c'è scritto long jean attenti è tre long jean su cinque tre long jean bravo 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 che sei un estimatore come me bravo bravo ma sei promosso meglio oggi ragazzi si chiude qua questa puntata avete messo dei video lunghi quindi la facciamo corta mi congratulo con voi per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love musica 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 musica